A tutti e a tutte, e benvenuti all'appuntamento odierno di Lezioni d'Europa 2024. Un saluto particolare ed affettuoso a tutti voi che siete collegati e che avete deciso di essere qui con noi, e in particolare ai docenti e agli studenti che da diverso tempo sono con noi e seguono i nostri appuntamenti perché sono degli appuntamenti che hanno un carattere anche formativo, oltre che divulgativo. Mi presento, io sono Carmela Basile e sono la responsabile dello Europe Direct Molise, presso la provincia di Campo Basso. Ed è in collegamento con me la dottoressa Antonella Fiorella, che è componente dello staff dello Europe Direct. L'incontro odierno è parte di Lezioni d'Europa 2024. Il format Lezioni d'Europa è stato ideato qualche anno fa dall'Università di Siena, e quindi colgo l'occasione per ringraziare ancora una volta il professore Daniele Pasquinucci per aver messo a disposizione della rete Europe Direct questa opportunità. Il format è portato avanti con la collaborazione di diversi Europe Direct e precisamente lo Europe Direct dell'Università di Siena, presso appunto l'Università di Siena, lo Europe Direct Roma Innovazione, presso il Formez, che mette a disposizione uno staff di esperti e la piattaforma che utilizziamo ogni volta, lo Europe Direct di Chieti, presso l'Università di Chieti, lo Europe Direct di Verona, presso la provincia di Verona, lo Europe Direct di Trapani, presso il Consorzio Universitario di Trapani, Sicilia, lo Europe Direct di Venezia Veneto, presso il Comune di Venezia, lo Europe Direct Emilia-Romagna, presso la Regione Emilia-Romagna, lo Europe Direct Lombardia, presso la Regione Lombardia, lo Europe Direct di Nuoro, presso il Comune di Nuoro, e per finire lo Europe Direct Molise, presso la provincia di Campobasso. Approfitto di questo momento per salutare e ringraziare i colleghi per avermi consentito di poter essere parte integrante di questa bella esperienza. I nove webinar che compongono questa edizione di Lezioni d'Europa 2024, come dicevo prima, hanno l'obiettivo di offrire anche uno spazio aperto di confronto e di apprendimento per tutti i cittadini interessati, che hanno modo di interfacciarsi con studiosi, esperti ed analisti su alcuni temi che sono di importanza cruciale per l'Unione Europea. Questo ciclo di webinar in particolare è stato pensato proprio in vista delle elezioni europee per il rinnovo del Parlamento Europeo che, come sapete tutti, si terranno l'8 e il 9 di giugno. Con l'appuntamento odierno, che è il sesto del ciclo di nove, diamo avvio alla terza sezione del ciclo, che prende il nome di il Green Deal, l'intelligenza artificiale e le loro concrete applicazioni. Gli appuntamenti sono tre, quello di oggi, 21 marzo, allarme seccità, l'azione dell'UE contro la crisi idrica, quello del 4 di aprile, rendere vivibili le città il New European House e quello dell'11 aprile, l'Unione Europea di fronte agli sfidi e alle opportunità dell'intelligenza artificiale e di chat GPT. Anche oggi, come nostra abitudine, abbiamo aperto la giornata con un brano musicale, Desert Rose. Credo che molti, ma davvero molti di noi, abbiano riconosciuto la voce di Sting e chi conosce la canzone sa appunto che è duettato con Cher Mami. In realtà si tratta di un brano che ormai fa parte della storia della musica e parla di un amore non corrisposto. Ma il video, come avete potuto tutti notare, ci riporta al deserto e quando pensiamo a quest'ambiente naturale, non immaginiamo solo le grandi temperature, ma anche l'assenza di acqua. E chiaramente è logico ed evidente il tema, quindi la riconnessione col tema di oggi, che appunto all'allarme siccità l'azione dell'UE contro la crisi idrica. Tra l'altro, volevo ricordare che questo appuntamento cade il giorno immediatamente precedente alla giornata mondiale dell'acqua, World Water Day, che ogni anno cade il 22 di marzo, a partire questo dal 1992, perché la giornata è stata istituita proprio in quell'anno dalle Nazioni Unite. E questa giornata è prevista all'interno della direttiva dell'agenda 21 ed è il risultato della conferenza di Rio. I temi delle giornate mondiali, come sapete, ogni anno cambiano, ci sono dei focus e degli approfondimenti particolari. Il tema di quest'anno è il legame tra l'acqua e i cambiamenti climatici. E l'obiettivo della giornata mondiale è quello di sensibilizzare istituzioni mondiali e l'opinione pubblica intera sull'importanza di ridurre lo spreco dell'acqua e di assumere comportamenti che sono volti a contrastare il cambiamento climatico. Cambiamento climatico che è una delle preoccupazioni maggiori dell'Unione Europea e degli Stati mondiali che hanno una maggiore sensibilità verso questo tema. Molti di voi avete sentito parlare del Green Deal. Il Green Deal è una delle iniziative faro dell'attuale Commissione Europea Guida von der Leyen e l'obiettivo primario del Green Deal, quello su cui si stanno focalizzando le attenzioni e gli interventi dell'Unione Europea in collaborazione con gli Stati membri è quello di arrivare alla neutralità climatica entro il 2050. Che cosa vuol dire neutralità climatica? Neutralità climatica vuol dire che il numero di gas ad effetto serra che vengono immessi, la quantità di gas ad effetto serra che vengono immessi nell'atmosfera è pari a quella che riesce ad essere assorbita dalle foreste, dalle oceani e dal suolo e per questo si arriva alla neutralità perché praticamente c'è il pareggio. Il Green Deal però ha anche un obiettivo intermedio a cui si dovrebbe arrivare entro il 2030 che è la riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra pari al 55%. L'Unione Europea sta lavorando con grande solerza per il raggiungimento di questi obiettivi e tra l'altro dobbiamo anche dire che il Comitato Economico e Sociale ha recentemente auspicato che in seguito alle prossime elezioni europee che vedranno la ricostituzione delle maggiori istituzioni europee appunto si possa realizzare anche un Blue Deal, un Blue Deal vale a dire un'iniziativa importante come quella del Green Deal perché il problema della gestione delle risorse idriche deve essere un problema che deve diventare una priorità politica. I relatori che abbiamo il piacere di avere qui con noi oggi si confronteranno in primo luogo sugli effetti che la crisi idrica provoca sul piano economico e sociale e ovviamente a delle ripercussioni sui disquilibri geopolitici del pianeta. L'acqua, come tutti sappiamo, è un bene che appartiene all'umanità intera. Ma dove si vengono a generare situazioni di disquilibrio e di vista uguale distribuzione di questa importantissima risorsa è chiaro che ci sono delle situazioni di disagio che possono indurre anche a degli squilibri geopolitici e tutti sappiamo anche che anche i cambiamenti climatici possono avere influenza, possono chiaramente agire e intervenire sulle migrazioni e sul problema della migrazione tutti sappiamo che l'attenzione è ampia e sappiamo anche quali sono i risvolti assolutamente importanti. Di tutto questo, come dicevo, parleremo oggi con i nostri due relatori che sono il dottor Alberto Pistocchi della Commissione Europea Centro Comune di Ricerca, GRC-ISPRA, Direzione di Sorse Sostenibili, Unità Ocean and Water, che ci parlerà dell'acqua e del cambiamento climatico e direi di dare il buongiorno e il benvenuto al dottor Pistocchi e poi parleremo con la dottoressa Stefania Di Vito di Lega Ambiente Nazionale APS, Rese Associativa ETS per la tutela delle sosse ebriche nell'ambiente urbano. Durante gli interventi dei nostri relatori noi raccoglieremo le domande che poi porremo alla fine. Quindi tranquillamente potete scrivere i vostri pensieri, i vostri riflessioni e i vostri quesiti all'interno della chat. E allora direi di dare avvio alla giornata di oggi e di passare la parola al dottor Alberto Pistocchi. Dottor Pistocchi, buongiorno e benvenuto di nuovo. Lei la parola. Buongiorno, buongiorno a tutti. Avvio la condivisione delle mie slide. Spero che siano visibili. E forse dobbiamo… ecco, dottore ci siamo. La visualizzazione è corretta ora. Perfetto, grazie. Buongiorno a tutti. Allora, il mio intervento è una carrellata sulla situazione e sulle attività dell'Unione Europea, in particolare della Commissione Europea, in merito all'acqua in un contesto di evidenti cambiamenti climatici. Vorrei partire con una considerazione di un'esperienza recente che abbiamo, penso, avuto tutti. La siccità del Po nel 2022. Questi grafici, che derivano da un articolo pubblicato recentemente da ricercatori, guidato da un ricercatore dell'Università di Bologna, evidenziano un fatto abbastanza preoccupante. Le portate medie, che vedete rappresentate in questi grafici, nella stagione estiva, in giugno, il grafico che vedete con la lettera B, in giugno-luglio, in maggio-giugno-luglio, in aprile-maggio-giugno e luglio, nei vari grafici, e stanno calando. Negli ultimi 200 anni mostrano chiaramente una tendenza al calo. La portata che si è verificata nel 2022 è il pallino arancione, che vedete in basso. Questo vi dà un'idea di quanto diversa dalle situazioni storiche questa situazione sia stata. Quindi siamo arrivati, diciamo, a quello che se avessimo speranza che la situazione si fermi qui, è il fondo del barile. In realtà abbiamo dei segnali che potrebbe essere anche peggio di quello che è stato nel 2022. Le portate tendono in media a calare di una quantità significativa durante i periodi estivi, che sono i periodi nei quali abbiamo bisogno di acqua per l'irrigazione dell'agricoltura e anche per altri usi, pensiamo al turismo. In inverno c'è un leggero aumento delle portate, anche questo non è un bel segnale, lo vedete nel grafico successivo, febbraio-marzo. In inverno l'acqua dovrebbe essere ferma sotto forma di neve nelle montagne. Questo succede sempre meno, quindi l'acqua in inverno si muove di più e quindi ce n'è poi anche di meno durante le stagioni secche. La contropartita di questa tendenza generale, in qualche modo, all'impoverimento delle risorse idriche, è data da fenomeni come un'altra esperienza recente, altrettanto dannosa, che è stata l'alluvione, il caso recente più grave è stato quello dell'Emilia-Romagna, dove una precipitazione molto intensa, che vedete rappresentata in questa mappa dai toni viola, i colori viola indicano una precipitazione molto molto alta, che corrisponde nel giro di pochi giorni alla quantità che normalmente piove in un terzo, la metà di un anno, che ha provocato le situazioni che tutti avete visto alla televisione e sui giornali. Quindi andiamo verso un clima che ha meno risorse idriche disponibili, perché ha più periodi lunghi, secchi, senza acqua, con poca acqua, e più periodi con alluvioni o comunque con eventi estremi di portate elevate che devono essere gestite per non avere appunto alluvioni e i danni conseguenti. Molto recentemente è stata pubblicata una comunicazione da parte della Commissione europea sulla base di un'analisi del rischio associato ai cambiamenti climatici coordinato dall'Agenzia europea dell'ambiente. Il messaggio in estrema sintesi è quello che vedete qui in inglese, se l'Europa non è preparata per rischi climatici che aumentano rapidamente. Siamo in una situazione di cambiamento climatico reale, misurabile, con degli impatti già evidenti oggi, ma soprattutto il segnale è che questi impatti tendano a evolvere in una maniera che ci crea grossi problemi di adattamento e quindi dobbiamo reagire, dobbiamo investire e dobbiamo organizzarci per fare quello che è possibile per gestire questa situazione. La comunicazione della Commissione che è stata pubblicata pochi giorni fa parla di rendere l'adattamento al cambiamento climatico una priorità trasversale in tutto quello che facciamo, in tutte le nostre attività economiche, in tutta l'organizzazione della nostra società, basandosi essenzialmente su un quadro di azione che comprenda iniziative sul miglioramento della governance, una maggiore chiarezza sulle responsabilità e su quali rischi devono essere gestiti, a quale livello, sapete che l'Unione Europea si fonda su un principio di sussidiarietà, per cui le azioni devono essere prese, gestite al livello al quale sono più efficaci, quindi ci sono delle azioni che sono evidentemente più efficaci se gestite localmente, altre che possono essere più efficaci se gestite a livello di Unione o a livello di Stati membri o ad altri livelli da discutere. C'è un problema di migliorare gli strumenti di gestione, sicuramente i sistemi di preannuncio degli estremi climatici, delle siccità è relativamente più facile, delle piene è un po' più difficile, ma comunque è possibile, sviluppare una capacità di gestire sempre meglio, con più precisione, con più attenzione, una risorsa, la risorsa idrica, che è sempre più scarsa e sempre più problematica nel quadro di questo contesto di cambiamento climatico. Poi ci sono delle politiche strutturali, per esempio la pianificazione del territorio, che deve essere condotta tenendo conto dei rischi climatici, delle infrastrutture, infrastrutture critiche che devono essere protette, quando parliamo di acqua parliamo ovviamente di acquedotti, parliamo di impianti di depurazione, parliamo di invasi, parliamo di difese dalle piene, eccetera, eccetera. Un aspetto emergente sarà la necessità di rafforzare i meccanismi di solidarietà all'interno dell'Unione Europea, perché quando una regione europea viene colpita si trova in situazioni evidentemente molto peggiori di tutte le altre regioni dell'Unione che sono per noi in grado di aiutarla e questa situazione si ripeterà diversa per tutte le regioni. Ci sono state recentemente gravi alluvioni in Germania, in Olanda, in Belgio, recentemente le alluvioni della Slovenia, della Grecia, della Francia di cui avrete letto sui giornali. Insomma, i problemi che abbiamo in Italia sicuramente non sono solo in Italia ma sono dappertutto, quindi ci dobbiamo sempre più dare una mano da questo punto di vista e l'avere una rete di 500 milioni quasi di persone anziché i 60 milioni dell'Italia o per esempio i 4-5 della regione Emilia-Romagna ci aiuta ad essere più resilienti, cioè a recuperare meglio rispetto ai disastri o alle calamità che ci colpiscono. Poi c'è un altro aspetto fondamentale che è la resilienza finanziaria, cioè la capacità di adattare il nostro sistema finanziario in modo che questi disastri e queste situazioni sempre più difficili da gestire vengano assorbiti con meno danni possibili, soprattutto considerando che ci sono segmenti della società e dell'economia che sono molto più sensibili di altri. In questo quadro la gestione dell'acqua in generale è un tassello importante. La gestione dell'acqua vuol dire essere in grado di assicurare acqua in quantità sufficiente e di qualità adeguata per le varie attività umane, per gli ecosistemi, in maniera da, quando arrivano situazioni di emergenza, avere meno problemi ed essere più in grado di recuperare quella che pian piano dovrebbe essere una normalità, anche se è una normalità adattata a questo quadro che evolve e che quindi non sarà più la normalità degli anni, dei decenni precedenti. quindi la comunicazione della Commissione sottolinea l'importanza in questo quadro di proteggere e riequilibrare e ristabilire il ciclo idrico che è alterato da tutta una serie di azioni sia dovute al clima sia dovute agli interventi diretti dell'uomo. Teniamo conto che la gestione dell'acqua verrà in un quadro di crescente scarsità. Se guardiamo allo scenario globale ci sono proiezioni, questa è una figura presa dalla comunicazione dell'Agenzia dell'Ambiente, comunque ci sono proiezioni che tutti avete visto sul fatto che la temperatura media globale sta crescendo in maniera anche più rapida di quello che ci si aspettava e comunque sta crescendo. può sembrare poco che la temperatura globale cresca di un grado e mezzo, di due gradi, di tre gradi e la differenza fra un grado e mezzo e due gradi può sembrare piccola. In realtà se uno guarda l'indicatore dell'aumento di temperatura media globale si accorge che c'è una relazione fra anche relativamente piccole variazioni di questo indicatore e conseguenze climatiche fra cui in particolare conseguenze sull'acqua. Questa figura è presa dal nostro studio di qualche anno fa che mostra come all'aumentare del riscaldamento medio globale quindi da un grado e mezzo a due gradi a tre gradi di riscaldamento rispetto alle medie del periodo preindustriale la scarsità d'acqua che vedete rappresentata sotto forma di colori sui toni arancioni e marroni la scarsità d'acqua diventa un problema sempre più diffuso a partire dal sud dell'Europa dove ci sono i fenomeni più gravi però un po' in tutto il continente man mano anche verso le regioni più settentrionali dove anche in anni recenti abbiamo osservato delle situazioni di scarsità d'acqua o comunque di difficoltà a soddisfare gli approvvigionamenti considerati ovvi considerati normali negli anni in cui non si percepiva il cambiamento climatico l'espansione della della scarsità d'acqua implica anche un'espansione della popolazione che soffrirà di questa scarsità e un'espansione dei danni quindi le perdite di qui le vedete quantificate in diverse diversi milioni di euro miliardi di euro parliamo di centinaia di miliardi di euro in corrispondenza di vari livelli di riscaldamento da un grado e mezzo a tre gradi il quadro è riassunto in questa infografica dove vedete che intanto c'è un netto una netta separazione fra il sud e il nord dell'Europa il sud è nettamente più svantaggiato questo non vuol dire che il nord se la passi bene però sicuramente i paesi del sud fra cui certamente tutta l'Italia soffriranno decisamente di più di altri paesi quindi dobbiamo essere preparati a questo fatto avremo dei danni avremo sofferenza di persone che dovrà essere in qualche modo gestita e mitigata il cambiamento climatico avrà un effetto anche sugli estremi ci sarà un peggioramento delle condizioni delle siccità e un peggioramento delle condizioni delle alluvioni che dovranno anche in questi casi essere gestite per chi è interessato ho messo qui il link al progetto pesetta del GRC che è un progetto di valutazione complessiva dell'impatto dei cambiamenti climatici che viene periodicamente aggiornato la versione che vedete qui è la quarta versione di questo studio ci sarà una perdita di benessere un po' dappertutto che è stata quantificata nei vari settori in alcuni settori ci sono settori per i quali non è stato possibile ancora fare una quantificazione ma sicuramente ci aspettiamo degli impatti negativi su tanti aspetti oltre alle alluvioni alle siccità chiaramente ci saranno degli impatti sulla possibilità di produrre beni agricoli come fra cui in particolare il cibo quindi evidentemente come negli anni diciamo in cui ancora non si percepiva il cambiamento climatico in maniera così forte sicuramente la situazione peggiorerà ci saranno anche delle difficoltà su altri aspetti per esempio la generazione di energia che risente negativamente della scarsità d'acqua perché molte delle nostre centrali pensiamo alle centrali nucleari non in Italia ma in altri paesi europei alle centrali termoelettriche in generale all'idroelettrico che anche in Italia rappresenta un segmento importante che soffrono tutti per la scarsità d'acqua e per la difficoltà di reperire risorse idriche è stato citato prima una dichiarazione del Comitato Europeo Economico e Sociale che chiede all'Unione di impegnarsi in un Blue Deal dell'Unione Europea basandosi su 15 principi e 21 azioni vi invito a consultare questa dichiarazione che si trova sul sito del Cese si tratta di azioni e di principi che sono già per la maggior parte direi quasi tutto è già in qualche modo incorporato nella legislazione e nelle strategie dell'Unione Europea però giustamente il Comitato Economico e Sociale evidenzia che le cose non sempre succedono nella realtà in linea con quello che ci siamo impegnati a fare con la nostra legislazione come europei e con le nostre strategie che sono ovviamente decisioni prese dai nostri rappresentanti ma che sono decisioni nostre non è che l'Europa è qualcun altro rispetto a noi io vorrei richiamare tre aree nelle quali c'è una intensa attività dell'Unione Europea insieme agli stati membri alle regioni ai vari soggetti che attuano le politiche le strategie la prima area è quella della direttiva 4 sulle acque scusate c'è un rifuso qui nella slide un'altra area è quella dell'adattamento climatico e degli investimenti straordinari diciamo per adattarsi una terza area è quella dell'industria idrica intesa come acque potabili acque reflu e discarico il riuso dell'acqua e altre iniziative che hanno più a che fare con una dimensione industriale ma che hanno evidentemente una implicazione strategica sociale molto ampia la direttiva 4 sulle acque è forse la legislazione più ambiziosa del mondo riguardo all'acqua è la prima che si è data un obiettivo di raggiungere una qualità una condizione di salute degli ecosistemi d'acqua buona entro una scadenza definita dalla legge che era il 2015 attraverso essenzialmente lo strumento dei piani di bacino idrografico e le misure collegate i piani di bacino idrografico sostanzialmente sono delle analisi dei motivi che non consentono un buono stato ecologico una programmazione di interventi per affrontare questi motivi e un recupero dei costi dell'acqua che deve essere equo ma efficace lo stato ecologico nel 2015 doveva essere buono per tutta l'Unione Europea diciamo ci siamo mossi in quella direzione fra il primo e il secondo ciclo dei piani di bacino però ancora siamo ben al di sotto degli obiettivi siamo poco sopra la metà diciamo a seconda di come si guarda al problema che è sicuramente complesso e difficile da condensare in un singolo indicatore però in questi grafici vedete che per i vari tipi di corpi idrici europei la porzione verde indica verde e quella azzurra indicano le situazioni che vanno bene le altre sono le situazioni via via meno favorevoli la parte rossa evidentemente quella peggiore ma anche quella gialla non va bene quindi dobbiamo migliorare su questo c'è un terzo ciclo dei piani di bacino che doveva essere completato nel 2021 l'analisi di questi piani è in corso e comunque la maggior parte dei paesi europei che vedete qui ha già finalizzato le procedure diciamo di questi piani altre sono in corso non ci sono situazioni particolarmente gravi ma comunque c'è ancora qualche ritardo ci sono vari motivi per cui non raggiungiamo le condizioni di ecosistemi in buona salute una delle cause è l'inquinamento chimico una sia per sostanze chimiche di sintesi sia per nutrienti l'azoto in particolare il fosso in molti casi anche altre cause che sono legate comunque alle attività umane e a quanto viene scaricato dai rifiuti degli uomini nell'ambiente un aspetto assolutamente importante è l'alterazione degli ecosistemi quindi la modifica morfologica dei fiumi fiumi che vengono rettificati che vengono scavati che vengono invasi da infrastrutture e quant'altro che oppure vengono privati della risorsa idrica quindi dell'acqua del volume d'acqua che normalmente dovrebbe essere presente in condizioni naturali e vengono sottoposti a queste azioni in misura tale da alterare l'ecosistema in maniera non accettabile in molti casi circa il 30% dei casi di non raggiungimento è dovuto a questi fattori magari non da soli ma in combinazione abbiamo anche la legislazione sulle acque per il consumo umano più stringente fra le più stringenti del mondo che è stata recentemente un paio di anni fa ulteriormente rafforzata per far fronte a nuove sfide fra cui inquinanti emergenti come le sostanze perflurinate ma non solo c'è un fattore importante che sono le perdite acquedottistiche che ancora in alcuni paesi fra cui l'Italia sono un fenomeno grave e c'è un fattore che il fatto che l'acqua di rubinetto in Europa è un'acqua di alta qualità che però non viene sfruttata abbastanza e soprattutto ancora consumiamo tanta acqua in bottiglia che ha degli impatti significativi un'ultima area su cui abbiamo lavorato tanto come europei è la gestione dei reflui urbani anche qui abbiamo una legislazione che a livello mondiale è molto stringente fra le più ambiziose del mondo ed è stata anche questo soggetto oggetto di una revisione recente che è ancora in corso di ITER parlamentare europeo ma che si spera entrerà presto in vigore con nuove misure o misure più efficaci per migliorare ancora la nostra gestione e c'è un'altra azione che diventerà sempre più importante che è quella di riutilizzare l'acqua depurata in particolare in agricoltura in molti paesi c'è un potenziale per utilizzare quest'acqua riducendo in questo modo la pressione sugli ecosistemi d'acqua però ci sono una serie di motivi che rendono difficoltoso questo riutilizzo il regolamento che è entrato in vigore nel giugno del 2023 quindi quasi un anno fa dovrebbe aiutarci a risolvere queste criticità e quindi a rendere efficace queste misure abbiamo una strategia di adattamento che a livello europeo prevede una serie di azioni e prevede lo sviluppo anche di un portale nel quale vengono raccolte e disseminate buone pratiche per l'adattamento strumenti e quant'altro la strategia di adattamento europeo si riverbera poi in delle strategie nazionali che dovrebbero poi portare in Italia c'è una strategia nazionale di adattamento che dovrà essere poi attuata attraverso un piano di adattamento quindi delle azioni specifiche degli investimenti specifici ci sono tutta una serie di misure che potete leggere nella direttiva italiana nella strategia italiana fra cui sinergie fra misure di gestione normale dell'acqua e di altri aspetti ambientali e migliore capacità di adattamento quindi meglio gestiamo l'ambiente e l'acqua in condizioni normali più forti siamo anche rispetto al cambiamento climatico quindi il cambiamento climatico è un ulteriore stimolo se ce ne fosse bisogno per darci una mossa ed attuare bene le misure che abbiamo già previsto nella legge in Europa ci sono dei sistemi di early warning di annuncio tempestivo delle siccità e delle alluvioni in Italia e in molte regioni italiane ci sono dei sistemi locali ancora più specifici però tutti questi strumenti hanno evidentemente una sinergia e a livello europeo per esempio recentemente è stato pubblicato questo atlante dei rischi legati alla siccità drought che ci aiuta a quantificare i danni che ci possiamo aspettare in presenza appunto di fenomeni siccitosi e come possiamo in qualche modo gestire e mitigare questi danni che ci aspettiamo c'è un fondo di solidarietà che ho citato all'inizio teniamo conto che più aumenta la frequenza di eventi estremi più questo fondo di solidarietà soffre perché ci sono molte richieste e i fondi ovviamente non sono illimitati quindi dobbiamo anche pensare che questi fenomeni ci chiederanno di ripensare un po' il nostro modo di gestire queste emergenze una cosa di cui tutti avrete sentito parlare è il piano nazionale di recovery in resilience in italiano penso recupero resilienza comunque un piano straordinario che è stato adottato dall'Unione Europea sull'onda dello shock causato dal Covid ma non solo quello nel quale sono stati resi disponibili fondi in misura assolutamente straordinaria per accelerare tutta una serie di investimenti tra cui in particolare quelli che vedete qui che rappresentano circa la metà di questi investimenti per la transizione verde la green transition nell'ambito del green deal che rimane una strategia fondamentale non solo per chi ha una particolare sensibilità ecologica ma in generale per tutti gli operatori economici e sociali cioè non esiste uno sviluppo economico che non sia uno sviluppo economico legato alla sostenibilità e all'adattamento chiaramente tutto questo richiede un cambiamento strutturale in un contesto molto complesso gli aspetti tecnici e finanziari sono sicuramente una sfida ma non necessariamente la più importante una transizione verde una transizione ecologica ci richiede sistematicamente di rivedere proprio la struttura della nostra società una serie di dimensioni di questo cambiamento strutturale sono esplorate in un rapporto che abbiamo pubblicato nell'estate del 2023 e che ha supportato lo strategic foresight report della commissione europea presentato in settembre in particolare la necessità di creare un nuovo contratto sociale nel quale la gestione dell'adattamento al cambiamento climatico e in generale dell'ambiente e lo sviluppo sostenibile facciano parte veramente trasversale delle iniziative e degli interessi e delle agende di tutti i vari gruppi coinvolti vi ringrazio grazie a tutti i vari gruppi grazie per la gestione per la gestione della governance delle responsabilità dei rischi le politiche strutturali meccanismi di solidarietà che devono essere chiaramente ulteriormente potenziati anche perché gli eventi disastrosi a cui le accennava ci auguriamo che non ce ne siano ancora molti ma non saranno crediamo forse gli ultimi quindi per averci illustrato la necessità di recuperare il ciclo idrico in costanza di crescente scarsità di acqua determinata come si diceva sempre dai cambiamenti climatici e per averci fatto riflettere sulle conseguenze in termini non solo economici ed energetici ma anche sul benessere complessivo dei cittadini per averci dato questo focus più approfondito sul Blue Deal e ci auguriamo veramente che la prossima commissione possa dare estrema rilevanza al Blue Deal e conferirgli la stessa importanza la stessa attenzione che sta dedicando al Green Deal perché veramente pensiamo che in questo modo si possano raggiungere dei risultati importanti che poi l'UE all'interno dello scacchiere mondiale non è il tutto ma è una parte importante e l'UE come dico sempre dovrebbe essere il posto migliore in cui noi possiamo stare e quindi ci auguriamo che veramente tutte le attività le azioni del non europeo possono andare verso questa direzione e che possiamo essere da fare ad esempio anche per gli altri componenti dello scacchiere mondiale ora io ringrazio ancora e direi di passare la parola alla prossima relatrice la dottoressa Stefania Di Vito dottoressa a lei la parola sì salve buongiorno a tutti e a tutte condivido anch'io una presentazione ok meglio così no in questo momento non la vediamo ok adesso la vedete non ancora ok sì vi confermo che adesso la presentazione si vede correttamente ok quindi procedo sì perfetto ok eccoci qua allora sì salve allora io faccio parte dell'ufficio scientifico di lega ambiente nazionale rigambiente ogni anno partecipa insomma dal suo contributo alla giornata mondiale dell'acqua con uno studio un approfondimento cercando un po' di seguire poi il tema che viene che viene dato dalla insomma dalle Nazioni Unite vi parlerò un po' più dell'approfondimento che abbiamo fatto lo scorso anno ovviamente aggiornato con dati con dati più recenti perché quest'anno essendo il tema più dedicato insomma più sociale più dedicato a fare leva sull'acqua come strumento di pace insomma ci siamo adeguati facendo un lavoro insieme all'UNHCR su insomma l'acqua che viene usata anche come arma o come fattore scatenante di conflitti domani insomma sarà uscirà il nostro report il nostro comunicato stampa però ecco volevo fare un piccolo passaggio anche su questo perché è molto importante pensare alla risorsa idrica anche in questi termini perché essendo un diritto fondamentale di vitale importanza insomma porta anche a questo la sua assenza tornando a noi cerco di andare avanti eccoci qua allora il dottor Pistocchi ha già illustrato perfettamente insomma tutto quello che ci troveremo ad affrontare dovremmo sicuramente imparare a convivere con i frequenti insomma periodi siccitosi che metteranno a rischio quantità e qualità d'acqua a disposizione dell'essere umano sicuramente dobbiamo cambiare il modo di gestire questa risorsa anche virtù del fatto insomma che ci troviamo al centro del bacino del Mediterraneo che insomma i paesi che lo circondano saranno protagonisti di un'area particolarmente a rischio in cui è prevista appunto un aumento di richieste quello che fa l'Egambiente ora vi farò vedere qualche dato è registrare i danni gli eventi che hanno che provocano dei danni a cose e infrastrutture ovviamente per farvi un esempio se c'è una valanga che cade in alta montagna e non provoca nessun danno nessun morto non viene registrato da questo sistema quindi noi registriamo i danni derivanti dagli eventi dovuti ai cambiamenti climatici e c'è da dire che insomma gran parte di questi eventi hanno come protagonista l'acqua vedete dal grafico un aumento di questi eventi e qui in particolare proprio un conteggio solo nel 2012 questa tabella riporta i danni solo nel 2012 e insomma sappiamo che dal 2010 al 2023 sulla nostra penisola ci sono stati oltre 1800 eventi meteorologici estremi oltre la metà il 67% ha visto per protagonista la risorsa idrica o per eccesso o per assenza e quindi ci sono stati allagamenti esondazioni fluviali piogge intense grandinate e siccità prolungata in particolare il maggior numero di eventi ha riguardato gli allagamenti in totale in tutti questi anni sono quasi 700 circa 170 esondazioni fluviali oltre 120 danni da grandinate franne la pioggia intensa insomma e un po' meno i danni da siccità prolungata sugli 86 c'è da dire che non ci sono solo danni a cose e infrastrutture i danni sono anche alle persone nella nell'immagine vedete il numero di ore di precipitazione che hanno poi provocato delle vittime vedete il confronto tra la media mensile del mese e poi invece il quantitativo di pioggia che è accaduto che poi appunto ha avuto come risultato delle vittime c'è da ricordarsi che in Italia un milione e trecentomila persone vivono in aree che sono definite ad elevato rischio di frane e smottamenti secondo l'ISPRA e quasi 7 milioni di persone sono a rischio medio o alto di alluvione sempre secondo i dati ISPRA però a fronte di questo in Italia sempre si spendono in media diciamo un miliardo e 250 mila euro per la gestione delle emergenze dovute al dissesto a fronte di circa 186 milioni di euro l'anno sempre per la prevenzione del rischio quindi questo ci fa capire come sia sul tema di dissesto ma anche poi vedremo il tema di gestione dell'acqua si va sempre un po' a rincorrere l'emergenza tutti questi dati li trovate sul portale cittaclima che volevo insomma un ottimo farvi farvi vedere ecco quindi questo è quello che si apre cliccando sul sul sito c'è appunto la mappa del rischio climatico andando alla mappa potete fare anche voi direttamente una ricerca di eventi che sono suddivisi per regione anche per tipologia potete andare muoverli sia girando insomma con la mappa sia facendo una ricerca e per ogni evento c'è anche una descrizione di quello che è successo in basso trovate le statistiche regionali e si può fare anche un download dei dati potete anche aiutarci a costruire questa mappa perché c'è uno strumento di che adesso non trovo c'è uno strumento per contribuire ecco come contribuire a cittaclima quindi insomma una volta che avete visto magari su un notiziario di un evento che vi ha colpito insomma siete al corrente di un evento che non vedete registrato sulla mappa potete fare la vostra segnalazione e quindi poi verrà verificata e poi verrà caricata un'altra parte importante oltre le news sono gli approfondimenti qui trovate delle diciamo delle storie comprese le buone pratiche di adattamento insomma che ne parleremo in modo più approfondito fra pochissimo questo ecco giusto per farvi vedere lo strumento e da dove derivano principalmente i dati che vi ho raccontato fino adesso soluzioni allora come abbiamo detto negli ultimi mesi come spesso accade il problema della scarsità idrica o anche della troppa abbondanza di acqua si affronta in maniera emergenziale cercando di dare la risposta principalmente alla domanda come possiamo avere più acqua come possiamo immagazzinarne di più come possiamo avere più acqua per soddisfare tutti i nostri bisogni ecco secondo le cambiante questo è un approccio sbagliato dobbiamo invece chiederci quanto sia sostenibile il nostro modello di utilizzo dell'acqua e di conseguenza come ridurre la nostra impronta idrica in tutti i settori e in tutti gli usi stiamo parlando non solo dell'acqua diretta che utilizziamo per le nostre per i nostri fabbisogni stiamo parlando anche ad esempio non approfondisco però stiamo parlando anche dell'acqua cosiddetta virtuale l'acqua virtuale è quella che si nasconde dietro la produzione di degli alimenti o anche degli oggetti ovviamente le industrie le fabbriche per lavorare hanno bisogno di risorse idriche sia per la lavorazione dei materiali ma anche per esempio per il raffreddamento delle macchine ad esempio quindi per la produzione non lo so di una tazzina di caffè o della carta è l'esempio insomma che conosciamo meglio ma anche pensiamo solo alla produzione della carne quindi l'acqua utilizzata per l'allevamento per l'abbeveraggio degli animali eccetera eccetera pensate che ci sta l'acqua cioè c'è anche un consumo idrico virtuale nel consumo dei giga nel funzionamento dei nostri dispositivi elettronici perché i server vanno raffreddati insomma e quindi c'è anche questo tipo di consumo ma andiamo insomma all'attualità a quello di cui si è parlato soprattutto negli ultimi mesi alle soluzioni che sono state proposte ne è uscito due in particolare una è quella degli invasi e l'altra è quella di ricorrere ad impianti di desalinizzazione gli invasi è appunto un altro modo che una soluzione che risponde alla domanda come possiamo accumulare più acqua secondo noi non è una risposta adeguata per diversi motivi innanzitutto non è una risposta all'emergenza né di oggi né dei prossimi 15-20 anni perché sono molto lunghi i tempi di realizzazione di queste opere non vengono considerate considerati gli impatti che queste opere hanno poi sull'ecosistema fluviale che andando ad intaccare sia la quantità di acqua rilasciata che la loro qualità ecologica delle acque rilasciate insomma e poi essendoci appunto questa grossa variazione sulla quantità e sulla distribuzione delle precipitazioni c'è anche un problema di riempimento poi di questi invasi infatti ce lo dimostrano i nostri bacini idrici sia i grandi laghi del nord ma anche insomma quelli più piccoli e più vicini alle nostre case i laghi minori che non riescono comunque a riempirsi sicuramente andrebbero impiegate le risorse per ricostituire ristrutturare fare il revamping degli invasi già esistenti che comunque vanno svuotati va fatta manutenzione perché sono degli invasi che hanno oltre 70 anni e quindi insomma questo secondo noi non è una soluzione anche perché l'invaso andrebbe ad intercettare ulteriormente le precipitazioni quelle poche mal distribuite che ci sono riducendo ancora di più l'apporto di acque meteoriche lungo tutto il reticolo idrografico e quindi ulteriormente impedendo insomma anche la la penetrazione nel terreno e in falda quindi anche la proposta poi di realizzare gli impianti di desaliniziazione secondo noi non è una soluzione adeguata è una soluzione da prendere in considerazione sicuramente in casi di necessità in determinati periodi dell'anno in realtà particolari come possono essere ad esempio le piccole isole quindi assolutamente adeguati in questi casi però insomma andare a trovare a proporre la soluzione alla scarsità idrica con gli impianti di desaliniziazione non è corretto sono elevati ovviamente i costi economici ed energetici associati a questa tecnologia i residui di trattamento hanno comunque un loro impatto si ottiene insomma diversi metri cubi di melma ipersalina ricca di antincrostanti metalli cloruri per ogni circa un litro e mezzo per ogni litro di acqua desalinizzata sempre in funzione poi della concentrazione di inquinanti dell'acqua di partenza e tutto questo comunque richiede una gestione e un trattamento suppletivo che va considerato a valle proprio della sola produzione d'acqua quindi queste sono le due soluzioni di cui si sente maggiormente parlare che però non trovano diciamo il nostro favore dobbiamo guardare ad un nuovo modello di gestione come insomma sottolineava anche il dottor Pistocchi sicuramente la circolarità dell'acqua offre interessanti opportunità di innovazione governance e gestione delle risorse idriche non dobbiamo dimenticarci che nell'immediato sarà necessario definire sicuramente un piano di razionamento dell'acqua per l'agricoltura per gli usi civili e industriali non solo per i cittadini perché insomma in risposta all'emergenza siccità che adesso sta colpendo particolarmente la Sicilia e la Sardegna però sappiamo insomma che si allargherà anche ad altre aree del paese però sul medio e lungo periodo è necessario sviluppare un approccio nuovo sistemico integrato una strategia idrica nazionale che non è più rimandabile l'obiettivo non deve essere quindi solo l'accumulo per affrontare periodi di carenza ma soprattutto abbiamo detto la riduzione della domanda d'acqua e quindi dei prelievi e degli usi e diciamo anche degli sprechi soprattutto L'Egambiente ha fatto un ragionamento per quanto riguarda il recupero dell'acqua piovana in città perché come vedete i dati sono interessanti nel senso in Italia mediamente le precipitazioni annuali ammontano a circa 300 miliardi di metri cubi di acqua di cui solamente 58 miliardi sono effettivamente utilizzabili a casa della distribuzione non omogenea delle piogge e dell'evaporazione in questo contesto insomma i dati abbiamo raccolto i dati pluviometrici relativi a 109 città capoluogo di provincia sono i dati relativi al 2020 che peraltro è un anno in cui le piogge sono state anche inferiori alle medie storiche di riferimento e questi dati ammontano a circa 13 miliardi di metri cubi d'acqua piovana quindi è acqua caduta sui tetti sull'asfalto sul cemento delle nostre case e delle nostre città che viene poi rapidamente convogliata nelle fognature e nei corsi d'acqua secondo noi potrebbe essere uno spreco di risorsa enorme se pensiamo che poi che 13 miliardi di metri cubi corrispondono a circa il 40% dei prelievi medianui di acqua in Italia che sono circa 33 miliardi di metri cubi quindi una soluzione in chiave urbana sarebbe installare sistemi di recupero delle acque meteoriche sugli edifici della città a partire da quelli pubblici scuole uffici ospedali e poi anche da quelli residenziali in maniera graduale ma costante con obiettivi poi da raggiungere ma precisi insomma secondo noi sarebbe fattibile con interventi programmati recuperare almeno il 20% delle acque meteoriche entro il 2025 il 35% entro il 2027 il 50% entro il 2030 le amministrazioni comunali visto che insomma oggi ne sono presenti possono fare molto dalla loro parte uno strumento che hanno sono i regolamenti edilizi i regolamenti edilizi sono appunto delle norme edilizie che vengono emanate dai comuni ce ne sono ci sono diversi casi in cui queste sono costruite ad hoc per disparmiare e recuperare l'acqua non sempre sono obbligatorie si può scegliere di rendere obbligatorie ma possono essere anche di incentivo o anche solo di promozione sono norme che possono incoraggiare verso il disparmio idrico a livello di edificio il recupero dell'acqua meteoriche e di quelle grigie per poterle riutilizzare ricordiamoci insomma sempre che nelle nostre case utilizziamo l'acqua potabile anche per scaricare il WC ad esempio quindi su questo mi ricollego anche a quello che diceva precedentemente il collega che comunque l'acqua l'uso dell'acqua la qualità dell'acqua va adeguata anche all'uso questo per non sprecare poi acqua di qualità diciamo adatta magari per il consumo umano però per usiche insomma per cui non ce n'è bisogno per farvi un esempio qui trovate lo schema di una di una di una casa di un'abitazione virtuosa è uno schema che racconta come si può utilizzare sicuramente l'acqua potabile per il bagno per la cucina ma si potrebbe utilizzare l'acqua depurata recuperata appunto per per gli scarichi domestici per la lavatrice parliamo sempre di acqua depurata e poi importante anche il recupero delle acque sia meteoriche ma anche dell'adeguato smaltimento poi delle acque nere passando poi un po' alle buone pratiche che sono state realizzate quindi alla alla modifica poi anche dell'ambiente urbano in ottica di adattamento al clima di migliorare l'efficienza di utilizzo delle acque in città questo è Trento con un parco l'urban wetland che è stato progettato appunto per intercettare e ricevere le acque piovane e convogliate poi dai tetti degli edifici di zona è stato progettato per il trattamento di uso delle acque di pioggia per irrigare le aree verdi del parco per aumentare la biodiversità nell'ambiente urbano c'è un sistema di fitodepurazione delle acque di prima pioggia che è stato integrato nelle aree giardino un altro esempio è Forlì in cui è stato desigillato il tessuto urbano è stata rimossa l'impermeabilizzazione poi del tessuto urbano che impedisce all'acqua di penetrare nel terreno e poi andare a ricaricare le falde sottostante in un senso più ampio questo è stato fatto con l'obiettivo di riqualificare e valorizzare l'area che inizialmente ho messo la foto prima e dopo era dibita a parcheggio sopraelevato e insomma è stato ripristinato il piano di campagna degli immobili storici e sono stati anche rievocati degli orti perduti importante anche l'innovazione tecnologica perché soprattutto in ottica di rilevamento delle perdite di rete sappiamo insomma che in Italia c'è una media di circa il 40% ma ci sono alcune alcune città alcuni comuni che perdono fino all'80% della quantità di acqua che viene immessa in rete quindi non è sicuramente quello principale dei problemi però è una buona una buona fetta quindi adesso insomma grazie alle nuove direttive alle nuove norme è stato avviato anche ai fondi del PNRR sono state avviate l'opera di digitalizzazione poi delle reti questo è l'esempio della città di Lisbona che insomma diversi anni fa ha iniziato proprio a fare questo monitoraggio delle perdite delle perdite dei guasti alle condutture eccetera attraverso un sistema e poi ci sono delle azioni più di governance ad esempio qua ne sono riportate di governance che poi portano anche modifiche strutturali della città ad esempio a Bologna è stato approvato il piano di adattamento climatico che prevede alcune misure concrete per rendere la città meno moderabile e quindi capace ai cambiamenti climatici quindi capace pure di proteggere i propri cittadini i territori e le infrastrutture tra gli obiettivi particolarmente legati alla gestione della risorsa idrica c'è sicuramente la diminuzione dei prelevi di falda la diminuzione delle perdite di rete la diminuzione dei consumi idrici domestici quindi la quantità di acqua che viene consumata poi al giorno per ogni abitante e anche quella per gli altri usi il riutilizzo delle acque per l'irrigazione insomma diverse di queste azioni proprio rivolte alla risorsa idrica Torino anche ha fatto insomma è stata la terza città in Italia a dotarsi di un piano di resilienza climatica e anche esso insomma contiene tutta una serie di 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 azioni rivolte alla risorsa idrica volevo parlarvi un po' di più di Modena in cui è stata realizzata una vasca di laminazione con l'occasione insomma della manutenzione straordinaria di piazza Roma di Modena è stata realizzata una una vasca di laminazione quindi innanzitutto si è cercato di liberare la piazza dal grande parcheggio presente con la valimentazione in asfalto l'area è stata pedonalizzata e quindi è stato realizzato uno specchio d'acqua lungo tutta la piazza che è sicuramente un buonissimo modo per combattere l'isola di calore e però dà anche una possibilità di trattenere l'acqua infine infine chiudo insomma con questi passaggi io rafforzo quanto detto precedentemente dell'importanza di avviarsi verso il riutilizzo delle acque reflue non solo in agricoltura ma anche in industria un po' ritorno al concetto di circolarità dell'acqua l'agricoltura è una dei settori più drovori per le risorse idriche però insomma è una di quelle che poi risente di più della loro assenza quindi diciamo che il potenziale di riutilizzo delle acque reflue in Italia è elevato però di questo viene sfruttato solamente il 5% quindi questo assolutamente va incrementando l'agricoltura sicuramente deve cambiare il suo modo di essere scendendo culture idrisigenze efficientando i metodi irrigui e implementando dei metodi di misurazione dell'utilizzo della risorsa però insomma questo dell'utilizzo degli acque reflue potrebbe essere un è sicuramente qualcosa da implementare ci sono già delle esperienze positive già attuate in Italia ad esempio il depuratore di fregene nel comune di Fiumicino che grazie a un trattamento dell'acqua tramite lampade a radiazione ultravioletta e altri trattamenti ne permette il riutilizzo per i campi agricoli ma anche quello di Fasano Forcatella in provincia di Brindisi che è stata una delle primissime esperienze virtuose addirittura dal 2007 è un impianto che intercetta le acque del depuratore comunale le affina e poi le distribuisce a ben 50 aziende agricoli e nei periodi in cui c'è la minore richiesta l'acqua viene raccolta nel lago Forcatella e viene utilizzata per la ricarica indiretta della falda e per mitigare l'intrusione di acqua di acqua marina la risalita di acqua marina queste sono solamente due buone pratiche che vi voglio raccontare sicuramente questo deve essere effettuato implementato accanto ad un impegno maggiore verso proprio il trattamento delle acque reflue nel nostro paese siamo alla quarta procedura di infrazione sempre per la direttiva appunto per il trattamento delle acque reflue ci sono comuni in cui è assente il servizio di fognatura e altri in cui appunto non è presente proprio l'impianto di depurazione c'è da dire anche che le procedure di infrazione per adesso solamente una delle quattro la prima porta anche a delle multe che stiamo pagando e quindi insomma sarebbe il caso di spendere quelle risorse economiche anche per l'adattamento degli impianti per per il loro upgrade e per il miglioramento insomma anche di tutto riutilizzo delle acque reflue ok io ho concluso e insomma resto a disposizione grazie dottoressa di vito per averci fatto questo quadro molto molto interessante anche su sulle iniziative che sono poste in campo sulle buone prassi sulle iniziative innovative lei ha anche accennato all'acqua come fattore scatenante di conflitti ed è questo un tema su cui vogliamo in qualche modo confrontarci anche tra poco e troppa acqua o poca acqua ormai gli eccessi ci accompagnano nella vita quotidiana ma ci sono come lei ci ha fatto vedere degli esempi di consumo sostenibile e degli esempi di utilizzo delle acque in maniera tale da ridurre almeno possibile l'impatto sull'ambiente anzi ragionare in termini di impatti ambientali estremamente ridotti e ha parlato anche della strategia idrica nazionale che mi sembra una cosa assolutamente importante anche rapportata alla questione della strategia dell'Unione europea sul campo della tutela delle acque ora io vi chiederei di rimanere con noi attivando la webcam perché avrei il piacere di porvi alcune domande che ci sono pervenute professor Pistocchi dottor Pistocchi la prego di essere con noi eccola benissimo allora abbiamo ricevuto un po' di domande la prima domanda è questa è possibile che una crisi idrica causi problematiche politiche e tensione tra i paesi all'interno dell'Unione europea perché abbiamo parlato fin ad ora di tensione a livello mondiale questa invece specifica per i paesi dell'UE sono stati effettuati degli studi su possibili scenari nel caso questo dovesse avvenire professor Pistocchi ci può dire qualcosa non so se sull'argomento lo Gersi o lei stesso ha fatto qualcosa diciamo sicuramente è un'eventualità da considerare una delle motivazioni dell'azione dell'Unione europea sull'acqua è il fatto che le risorse idriche sono trasfrontaliere inerentemente l'Italia è in una situazione particolare perché i nostri bacini trasfrontalieri sono relativamente limitati ma altri paesi pensiamo la Germania e l'Orlanda che condividono la Francia e altri paesi che condividono il Reno oppure recentemente c'è stato un disastro ecologico sul fiume Oder tra Germania e Polonia ci sono tante situazioni trasfrontaliere che sono rilevanti in teoria il quadro di azione comune incorpora la collaborazione trasfrontaliera e la solidarietà europea incorpora una gestione concertata della risorsa quindi speriamo almeno di non farci la guerra fra di noi visto che dovremmo prevedere uno scenario sempre più complesso dal punto di vista internazionale quindi mi auguro di no gli strumenti ci sono il GRC ha pubblicato un lavoro sulla cooperazione e il conflitto legati all'acqua per chi è interessato è un articolo scientifico di qualche anno fa il primo autore è Fabio Farinosi in cui si fa un'analisi statistica basata su descrittori socio-economici geopolitici delle possibili situazioni di conflitto a livello internazionale perfetto diciamo che viene in nostro soccorso la normativa completa e monicomprensiva dell'Unione Europea e noi confidiamo molto nella collaborazione nello speso di collaborazione tra gli Stati membri del resto insomma è uno dei punti da rimarcare stare nell'Unione Europea vuol dire venire si incontri in tante situazioni e dottor Pistocchi c'è una persona del pubblico che dice mi farebbe piacere avere il link al documento della Commissione Europea citato dal Professor Pistocchi credo che sia forse quello iniziale di cui ci ha parlato di insomma della macro della macro cioè è stato il quadro macro insomma sì direi che è tutto online se non ci sono nella presentazione i link li posso condividere non c'è nessun problema e comunque facendo un motore di ricerca una query con la EU Climate Risk Assessment trovate tutto perché è una notizia molto recente benissimo grazie e dottoressa di Vito vuole aggiungere qualcosa a quanto detto finora sicuramente il dottor Pistocchi ha risposto voglio ricordare che insomma appunto facendo un censimento degli ultimi conflitti legati all'acqua un dato che è saltato fuori vicino a noi non sto parlando insomma di quelli più lontani è stato proprio nel conflitto russo-ucraino insomma dove le riserve idriche sono state compromesse con era il caso insomma dell'abbattimento di una diga nel sud dell'Ucraina e quindi questo ha provocato comunque aumentato il livello insomma di disordine di caos insomma di disagio quindi ecco anche se poi le vicende più che la tanti magari succedono più lontani da noi però ecco insomma incidono comunque anche su di noi e questo insomma è un dato di fatto e un'altra domanda ve la porgo quanto incide la necessità di una riconversione dei sistemi produttivi industriali tra le tante azioni che chiaramente possono e devono essere messe in campo qual è la portata secondo voi della riconversione dei sistemi produttivi industriali se non so insomma se anche in questo caso possiamo addurre degli studi di settore ovvero sulla base della vostra esperienza potete aggiungere qualcosa anche una brevissima riflessione io se posso partirei da un quadro del bilancio idrico europeo che noi manteniamo con i modelli di calcolo che utilizziamo a Ispra e al Jersey sostanzialmente l'industria è il terzo settore dopo i più importanti sono chiaramente l'agricoltura e a livello europeo l'utilizzo di acqua per la produzione di energia quindi il raffrescamento delle centrali termiche termoelettriche e idroelettrico che però ha una logica un po' diversa l'industria è importante pesa localmente molto di più ma in media meno del settore civile a livello europeo quindi dell'acqua autistico chiaramente come tutti i settori c'è potenziale di recupero dell'acqua e di miglioramento dell'efficienza che è prima di tutto nell'interesse economico degli operatori industriali e poi anche nell'interesse della gestione dell'ambiente della resilienza eccetera quindi è sicuramente un'area nella quale prestare attenzione quantitativamente ha un peso un po' più limitato di altri settori benissimo benissimo e un'altra domanda chiedo se sia possibile vietare in estate l'utilizzo dell'acqua per le piscine dei privati e degli alberghi adesso io non so se esiste una normativa in questo campo però è sicuramente una domanda che ci pone delle curiosità forse la dottoressa di Vito ci può non so se esiste la normativa si fa i comuni lo fanno soprattutto anche l'estate scorsa insomma soprattutto nei momenti più emergenziali non solo viene viene richiesto di non irrigare il prato di non lavare le macchine insomma sono diversi gli usi che vengono poi gli usi diciamo non necessari che vengono che vengono richiesti c'è da dire che accanto a questo insomma sarebbe anche utile poi incentivare quello che dicevo insomma se accanto al divieto dell'uso dell'acqua poi di acquedotto si mette anche tutta una serie di sensibilizzazione e di di introduzione di incentivi poi a farsi il l'impianto il mini impianto di depurazione comunale di raccolta delle acque quindi per riutilizzare le acque meteoriche eccetera eccetera quindi dovrebbe sicuramente essere accompagnato questo poi insomma sì è possibile vietarlo si fa è corretto nei momenti più più difficili però dovrebbe essere accompagnato ecco da delle politiche anche più virtuose assolutamente sì va tutto inserito in un macro quadro generale di interventi complessi complessivi allora credo che ci siano altre domande dunque buongiorno vorrei chiedere ai relatori le loro riflessioni sulle politiche demografiche nell'unione europea e nei singoli stati dove si incentiva la nascita di altri esseri umani che devono nutrirsi senza tener conto del peso complessivo che l'umanità intera ha sul pianeta e nello specifico sul consumo di acqua e direi anche di suolo grazie è una domanda bella tosta eh io partirei da una considerazione sicuramente l'umanità è in una direzione difficile da sostenere per fortuna a livello globale ci sono segnali di flessione demografiche un po' in tutti i paesi c'è un segnale anche di una forte relazione fra la riduzione della prolificità e il miglioramento delle condizioni di vita in particolare delle donne in molti paesi è un tema complesso nel quale io esito a avventurarmi perché non vorrei entrare in una discussione più da bar non essendo il mio il mio campo sicuramente ci sono tanti aspetti complessi ecco in Europa non siamo certamente in una situazione di pressione demografica critica sulle risorse idriche ecco per chiarire rispetto ad altri paesi siamo in una condizione un po' più fortunata però è indubbio che il clima e le risorse idriche saranno sempre più limitanti sia a livello globale sia anche in molte regioni europee certo dottoressa Di Vito vuole aggiungere qualcosa? anche io non mi avventuro non è assolutamente perciò dicevo la domanda è complessa è complessa sicuramente bisogna fare torno a dire che bisogna fare una riflessione proprio sul nostro modello attuale di vita di consumo di di sfruttare anche spazi e risorse che abbiamo ecco poi in realtà personalmente non è non lo vedo poi così un problema di demografico ecco però è una considerazione molto personale perfetto perfetto infatti la la persona del pubblico ci chiedeva le vostre riflessioni ecco e abbiamo un'altra domanda come superare e sanare il tema delle infrazioni comunitarie in merito ai temi depurazione e perdite idriche forse lo chiedo provo a chiederlo al dottor Pistocchi ecco ma anche alla dottoressa di Vito cioè vi accomuno ancora una volta io sono io sono un funzionario della commissione ma sono anche un italiano tutte le volte noi mettiamo tante di infrazioni eh sì ecco cioè tutte le volte che mi capitano queste cose dico ma perché voglio dire stiamo sprecando tempo soldi benessere dei cittadini possibilità di rispondere nel merito sui problemi sostanzialmente perché non ci stiamo organizzando quindi rispondo un po' con anche un po' di demoralizzazione da italiano più che è chiaro che è un'inefficienza del sistema dovuta a tante ragioni ci sono tante persone che si danno un grande affare ma che lottano tutti i giorni con un sistema complesso non che in Europa siano tutte rose e fiori però l'Italia ha una lunga tradizione di questo di questo backlog di 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 multe soprattutto su aspetti come l'acqua eh potremmo investire meglio le nostre risorse questo è il dubbio confidiamo una diminuzione drastica delle infrazioni nei mesi e negli anni a venire per un miglioramento della gestione complessiva del tutto dottoressa di Vito sì sicuramente andrebbero insomma le risorse vengono stanziate anche specifiche per il sud che insomma sono le regioni più 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 critiche rispetto a questi a questi due temi non solo il sud ovviamente sono anche molto diffusi a parte faccio l'esempio per esempio della Lombardia sulla decorazione o anche il centro Italia sulle perdite idriche però insomma negli ultimi negli ultimi anni sono stati stanziati dei fondi e speriamo insomma che vengano utilizzati adeguatamente senza senza spreche senza senza perdite insomma aggiungo quello già precedentemente detto perfetto se posso aggiungere un aspetto i soldi sono ovviamente un problema però ho la sensazione che in questo in questa congiuntura storica i soldi non siano il problema principale abbiamo una necessità di sviluppare una capacità di progettazione di gestione e di implementazione degli interventi che può essere molto più limitante della disponibilità di fondi in molti casi ok io vi ringrazio davvero siamo in fase di chiusura di questo webinar vi ringrazio per i vostri preziosi interventi ringrazio e saluto ancora tutte le persone che sono collegate con noi tutti i colleghi il professore Daniele Pasquidici dell'Università di Siena e vi ringrazio davvero per il prestoso contributo che avete portato a questa giornata e speriamo di incontrarci ancora e a molto presto buona giornata a tutti grazie a voi buona giornata grazie a tutti grazie a tutti